E' il giorno del dolore a Tagliacozzo dopo l'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio Paolelli. Sono stati recuperati i corpi delle tre vittime, l'area dell'esplosione è stata messa parzialmente in sicurezza, mentre dall'ospedale di Avezzano sono stati dimessi due dei tre feriti messi in salvo dai soccorritori. Il comune di Tagliacozzo ha proclamato un giorno di lutto cittadino per le segui di Valerio Paolelli, 37 anni, figlio del proprietario della fabbrica dei fuochi pirotecnici Antonio Morsani, 47 anni, di Rieti e Antonello D'Ambrosio, 33. di Brocco Stella, ma residente nell'Aquilano, a Cappadocia. Il sindaco Maurizio Di Marco, in segno di rispetto per la tragedia che ha colpito il piccolo comune abruzzese al confine con il Lazio, ha deciso di rinviare, a data da destinarsi, la tre giorni di rievocazioni medievali che sarebbe dovuta iniziare oggi. Passata l'emergenza, ora è il tempo di capire come possa essere successa questa che non è la prima tragedia che si abbatte sulla nostra regione nel settore dei fuochi pirici. La magistratura è già al lavoro, la procura di Avezzano ha aperto un fascicolo contro i gnoti in cui vengono ipotizzati i reati di omicidio colposo, plurimo e disastro colposo. Dalle prime informazioni, l'azienda Paolelli sembrerebbe in regola con la documentazione e le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma nelle prossime ore potrebbero scattare gli avvisi di garanzia nei confronti degli amministratori dell'azienda, cioè Lorenza Mattei, madre di Valerio Paolelli, e per Armando Paolelli rimasto illeso, così come il capo famiglia Sergio, che ieri, alla notizia del ritrovamento del figlio disperso, ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale. Per il legale della famiglia Paolelli, Cesidio di Salvatore, quello della magistratura è un atto dovuto che però suona come una beffa nei confronti di una famiglia distrutta da una tragedia che non ha ancora un perché.